ci abbiamo da fare l'iconcina che è uscita ieri e non so se è uscito altro ma non credo dobbiamo arrivare a 12.007 e domani facciamo l'indovina chi con Beckham una piccola iconcina di riscaldamento prima delle 19 che dite facciamo questi con al volo così almeno pulisco pure un pochetto il club regà porco giuda però devono rimette devono rimettere i pacchi miei zio cane se non rosico devono rimettere i 7.85 più la sagua fortissima brother la sagua veramente forte forte l'abbiamo provata l'abbiamo provata che è l'altro giorno incredibile no che nascondino regà mancano tipo due minuti ma quale nascondino anita max win anita max win un pic bruttarello devo dire la verità le sagrazio degli 11 sta a caricare i toti ho capito però sti icon inguardabili porco giuda me ne fosse uscito una buona o non me ne è uscita una buona ste cazzo di icon mi devono mettere i pacchi miei mi devono mettere 7.85 più oppure tilto 19 non me l'hanno messo i super 86 zio porco davvero si sono accorti che droppavano troppo quei cazzo dei pacchi l'hanno levati ne hanno più messi regà porco giuda il primo giorno qua ci abbiamo svoltato con quei pacchi lì o vabbè i soliti super 86 più e vai i super 86 ragazzi che problema c'è canti sbc nice dopo lo facciamo vediamo se droppano però più che altro questa è la domanda vorrei trovare qui qui se trovi in toti fra te comincia a essere santa situazione eh dodicesimo maschile è cristiano ronaldo domani rimane squa oltre alla pop e cristiano ronaldo porco giuda già so due eh già du pop e in cristiano ronaldo li mortangurelli loro eh madonna pensavo fosse la oberdorf questa no infatti dicevo ma quella è toti porco due invece no però a me sti pacchi mi fanno in nervosi ragazzi oberdorf l'ho chiamata eh il visionario l'ho chiamata l'ho chiamata l'ho chiamata e la oberdorf te dico vabbè si è toti dai è toti no è con base è con base ragazzi claivert zio cane che schifo 40k di cona porco giuda un'altra pop ho capito che sono un collezionista io di fanco però c'è manca a manca a trattarmi così ok vabbè allora la oberdorf è la prima che è stata trovata quest'oggi dai vabbè basta la pop porco dio come no problemi con il negozio ah si è bloccato completamente il gioco ok funziona ragazzi dai mamma mia ragazzi ma si trova solo la pop in questi pacchi ma si trova solo la porco dio di pop posso trovare solo oberdorf zio cane non trovate 40 non trovate oh hero mi è già dammi ginola armeno lì sarà su vabbè manco brutto mezzi d'edge sti pacchi regà vedi che la verità il problema che secondo me sorge spontaneo è che alle 20 escono comunque solo pacchi non scambiabili secondo me cioè secondo me non escono altri pacchi scambiabili programma di oggi tranne sbustare sbustare oggi il programma è sbustato adesso ecco sto disposto pure a mettere ah vlaovic eccolo sto disposto pure a mettere altri 100.000 fifa points se devo brother oh non si trovano porco dio eh flow grazie di sei mesi basta sti iro di merda fanno cacare c'è ginola ma che c'è Gianmarco in chat che è l'unico che può trovare ginola Diego Forlan no raga sto pacco è una merda ho trovato solo quella trimona della oberdorf manca un portieraccio eh oh basta ragazzi ultimo pacco mi sono rotto il cazzo mi stanno a scammare qui porco giuda qui mi stanno a scammare ragazzi allora basta sti pacchi fanno cacare apriamo tutti questi allora qui abbiamo un po' di robetta però non so se sono buoni sti pacchi aggiornamento liga liga pre vabbè se un lavoratore decidesse di metterci un paio d'euro su sto gioco domani 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 se proprio devi mettere un paio d'euro perché è meglio domani eh perché domani escono pure le menzioni d'onore domani almeno con le menzioni d'onore c'è un po' più di possibilità cioè capito se non trovi il todi almeno domani puoi trovare pure qualche menzione i todi sono un po' complicati da trovare comunque ma io quanti sordi devo sganciare c'è tra domani oggi e domenica io voglio fare pure il team più costoso di fc24 breve eh l'ho già buildata eh costa se non sbaglio 70 milioni però messi già ce l'ho c'è un paio di giocatori già ce l'ho quindi non li risparmio fate sto cazzo di prime dai ah regà mo a parte i scherzi porcoma sai che quanti sordi sto uscendo in questo periodo tra sub e todi sto guadagnando bene è chiaro però non è che guadagno istantaneo cioè io i soldi che sto guadagnando oggi li vedo il prossimo mese tra due mesi li vedo sono le 8 allora vediamo che pacchi sono usciti sì ma questo è non scambiabile porca madonna che palle regà questi pacchi non scambiabili zio cane aprimone un po' aprimone un po' per la scienza grande if ma qui è pieno di roba buona dentro sto pacco il problema qual è principale è che io c'ho già un paio dei giocatori non scambiabili toti che se dovessi per caso trovarlo doppione potrebbe stemmiare un pochino merda tutti non scambiabili raga no apriamo solo scambiabili dai drop rate veramente sotto un treno sonno davvero sto gioco funziona al contrario hanno levato il drop rate quando sono usciti tutti ma regà quest'anno è fatto al contrario il gioco ti dico la verità vabbè ma meglio al contrario che almeno ho sculato i primi giorni e mo adesso stiamo un po' così ma scusa io quando il drop rate era altissimo non ho trovato una sega provo ad apri mo potrebbe essere 5 head eh trovala qualche pop porco giuda basta sta cazzo di pop regà trovo solo la pop ho detto secondo me l'unico problema reale del calcio femminile è la grandezza delle porte secondo me potrebbe quanti cazzo di pop sto trovando o domani se non la trovo impazzisco no ragazzi ragazzi qui stiamo sotto un treno qui siamo tornati all'anno scorso con il drop eh ma che sto stiro poi qui FIFA points scendono e non troviamo un cazzo di niente ragazzi eh pacchi osceni fidatevi imparo dei non scambiabili Basta la pop eh oggi è andata male eh oggi ragazzi mi sembra che è andata abbastanza male eh oggi brutta sensazione eh siamo tornati ai vecchi cosi eh siamo tornati all'anno scorso oggi eh dai pacchi del laboratorio si apriamo l'ultimo dai brutti veri ragazzi che è sta roba un eroe o icona duono John Arnerise oh goddio ragazzi e che tu lo dico a fa e trovo solo lui solo lui c'è ragazzi no no non è che fa freddo è che sta sta ferpa mi sa è portaziella porco dio questa ferpa portaziella serve un po' di blu madonna sta ferpa porco giuda però mamma mia questa puzza eh l'ho usata per tre giorni di fila dei toti devo dirti la verità un po' puzza ragazzi ho capito non ho fatto in tempo a lavarla ragazzi cioè voglio dire questa c'ho blu io di ferpa ma perché non te lavi ma non è io che non me lavo è la ferpa che non la posso lavare in un secondo asciugarla bro dentro questa ferpa si sta creando un habitat tutto suo capace che ci trovino shiny e si è nai con toti non scambiabile ai 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 la felpetta dello zanone la felpetta dello zanone la felpetta quanto costa sto coso bono no so cinque sub ragazzi sono cinque sub molto bene ragazzi molto bene aumentiamo il counter delle icon che era rimasto per un po' fermo non abbiamo questa è la prima che troviamo eh è la prima icon che troviamo da quando è uscito il team 2 eh ma meno male che abbiamo trovato berdorf e sien ragazzi perché se no oggi stavamo proprio al bar che è un'altra